Lo scorso fine settimana il buon cibo a chilometro zero è stato protagonista del carnevale cunese firmato col diretti Campagna Amica. Sabato 22 febbraio a Cuneo i cuochi contadini degli agriturismi Campagna Amica hanno animato il mercato settimanale di Campagna Amica in piazza della Costituzione. Qui i bimbi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in un laboratorio di cucina con protagonisti colore del carnevale. I profumi dei dolci cunesi più apprezzati in questo periodo dell'anno ovvero le risole. Tante le iniziative messe in campo da col diretti Campagna Amica in questo weekend di carnevale in tutta Italia. Anche qui a Cuneo protagonisti oggi i dolci in maschera. Il carnevale è l'occasione per incontrare le famiglie qui al mercato di piazza Costituzione a Cuneo. Abbiamo El Perol dove c'è Mauro Robione che è il cuoco contadino che prepara le bugie che sono un classico dolce del nostro territorio per i bambini e per le famiglie. Che oggi frequentano il mercato quindi è un'occasione ulteriore per incontrare i cittadini e i consumatori in questo mercato che ormai funziona da una decina d'anni. E che è l'occasione tutti i sabati mattina di incontrare i cittadini e i consumatori e dare la possibilità di comprare i prodotti nel nostro territorio. Praticamente a chilometro zero quello che sono le produzioni d'eccellenza del nostro territorio. Quando si parla di tradizione di buon cibo a chilometro zero protagonisti sono sempre i nostri cuochi contadini anche oggi qui al mercato Campagna Amica. Grazie a oggi siamo venuti a proporre la classica ricetta di carnevale, le bugie, chiacchiere o risole come volete chiamarle. Abbiamo coinvolto i bambini provandoli a fargliele fare usando la manualità e si sono divertiti e se le sono portate a casa e speriamo che gli siano piaciute. Qual è il segreto per fare delle risole davvero speciali? Beh innanzitutto bisogna, qualsiasi cosa tu faccia, devi sempre usare materie prime di alta qualità. Quindi le nostre risole sono fatte con farina, burro, zucchero, un pizzico di lievito, sale, poi puoi grattugiare un po' di limone oppure una scorza d'arancia. Mettigli un po' di liquore, liquore a tua scelta, grappa, può essere grappa, può essere limoncello, può essere un altro liquore alla frutta. E poi impasti e le stili sottili e vanno fritte. Poi possono essere fatte ripiene o non ripiene. Quelle ripiene vanno fatte un po' più spesse e il ripieno puoi farlo con la marmellata, puoi farlo con del cioccolato a tuo gusto. E poi ovviamente c'è tanta passione dietro quella di voi cuochi contadini. C'è tanto lavoro più che altro perché qualsiasi cosa tu faccia in cucina ci va tanto tempo, tanta passione, ma alla fine i risultati si vedono. Ha riscosso molto successo tra grandi e piccini il laboratorio di cucina, tema carnevalesco. È stata una delle iniziative messe in campo da Coldiretti Campagna Amica per offrire ai consumatori di oggi e di domani occasioni educative, curiose, divertenti con cui conoscere sapori, prodotti e ricette della nostra tradizione. L'attività si è inserita nella cornice del mercato Campagna Amica di Cuneo, appuntamento settimanale molto prezzato dalle famiglie cunesi che da anni lo scelgono per l'ampia gamma di prelibatezze locali che offre. Siamo in un mercato di successo in Campagna Amica realizzato qui a Cuneo. Quali prodotti troviamo sui banchi ogni sabato mattina? Qui c'è una rappresentazione di tutti i prodotti che sono sul nostro territorio, ci sono dalle carni, sia quelle suini che conigli, polli, c'è il discorso dei pesci, c'è l'ortofrutta a 360 gradi con tutte le produzioni ortofrutticole del nostro territorio, c'è il miele, ci sono prodotti con agricoltura tradizionale, prodotti biologici, quindi c'è una rappresentazione di quello che sono le eccellenze e le produzioni del nostro territorio. E ovviamente c'è tanta tradizione e tanta cultura contadina. Sì, diciamo che l'obiettivo di questi mercati e fosse il successo di questi mercati è la possibilità di acquistare i prodotti, ma di poter parlare e dialogare quotidianamente con quelli che sono i produttori, quindi noi abbiamo dei prodotti che di anno in anno possono cambiare a seconda delle condizioni climatiche, siamo in un mese di febbraio particolare per condizioni climatiche di un inverno che non si registrava veramente da tanto tempo con queste temperature alte, quindi abbiamo dei prodotti che di sabato in sabato possono cambiare, di anno in anno sono diversi perché sono i prodotti del nostro territorio, quindi che l'agricoltura del nostro territorio segue quelle che sono le caratteristiche dell'ambiente, quindi i nostri produttori spiegano anche quelle che sono le caratteristiche delle varie prodotti e danno anche a volte dei consigli, ecco il fatto di avere qui oggi il cuoco contadino Robbione è proprio la possibilità anche di chiedere dei consigli sulla trasformazione e come poter portare a casa questi prodotti e magari cucinarli in modo un po' diverso dal solito.